Torniamo a parlare del cosiddetto caso Torrisi. Il successore di Torrisi verrà fuori dopo una riunione di Forza Italia. Il partito si riunisce questo pomeriggio per fornire le indicazioni al sindaco sulla scelta dell'assessore che andrà a completare la squadra assessoriale della giunta Garozzo. Tante le indiscrezioni, sono girati i nomi di alcuni consiglieri in quota Forza Italia pronti a ricevere la delega, ma non viene esclusa la scelta di esterni sempre in quota Forza Italia. Un dato è certo, il prescelto andrà a ricoprire la delega ai servizi sociali o all'urbanistica o entrambi. Le reazioni in città intanto non sono tardate, prendiamo atto, afferma Michele Barbagallo, responsabile di Italia dei Valori, della decisione del sindaco che ha annunciato il ritiro della delega all'assessore Torrisi. Si tratta, a nostro giudizio, di un provvedimento che non basta da solo a garantire il ripristino della trasparenza nella pubblica amministrazione. Occorre, sottolinea Barbagallo, che il sistema clientelare venga contrastato affinché il consenso dei cittadini non continui ad essere merce di scambio. In tal senso, Italia dei Valori auspita una presenza vigile, oltre al settore della solidarietà sociale, anche sul settore dei lavori pubblici e sull'iter conclusivo del PRG, che è colpevolmente trascinato per cinque anni, con la prossima scadenza dei vincoli espropriativi e con l'approntamento di una complessiva variante, potrebbe essere utilizzato per elargire promesse elettorali. Italia dei Valori annuncia quindi per domenica e lunedì prossimi l'allestimento di un punto informativo in Piazza Garibaldi per un confronto e una partecipazione attiva al progetto di cambiamento della città.